Il lavoro dopo la crisi ha messo l'accento sul futuro il convegno organizzato oggi da Confindustria Venezia. Se infatti qualche segnale di ripresa c'è, occorre lavorare perché le aziende italiane restino competitive, garantendo nuova occupazione. La ripresa c'è, è partita nel mondo, però sarà discontinua e molto selettiva. Noi dovremmo affrontare un impegnativo 2010 dal punto di vista dell'accompagnamento di molte persone attraverso opportuni investimenti nelle competenze, nella conoscenza, verso nuovi lavori. Il rischio è di ritrovarsi nei prossimi anni con un alto tasso di disoccupazione cronica, fondamentale dunque proteggere il reddito ma anche investire sull'attività formativa, in modo che chi resta senza impiego possa rientrare nel mercato del lavoro. I sindacati comunque accolgono con sollievo il finanziamento di altri 80 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga nel Veneto, ma chiedono al governo di fare di più. Non è una rondina o poche rondini che fanno primavera, qui ci vogliono davvero degli stormi di rondine per farci uscire dalla crisi, bisogna ancora lavorare e collaborare tra noi tutti e la politica, soprattutto la politica a livello nazionale e locale deve collaborare di più e dare prospettive a un'economia che ha bisogno oggi. Per esempio oggi, dice la CISL, bisogna allargare gli ammortizzatori sociali anche alle fasce non protette come i precari. Intanto il disagio degli operai di Marghera arriva fino alla sede di Confindustria. Alcuni sono qui per dire no alla chiusura della Montefibre. Per loro la crisi non è finita. La crisi non è finita, ci sono timidi segnali di fine della crisi, ma questi timidi segnali non toccano Porto Marghera, non toccano l'area industriale e tanto meno questa importante fabbrica che è la Montefibre e che noi pretendiamo e vogliamo che riprenda a produrre.